Il terremoto che distrusse, che sconvolse la nostra terra. Diversi gli appuntamenti per ricordare quei tragici momenti e le persone che sotto le macerie persero la vita. Gemona intitolata una via a Salvatore Varisco, l'ex assessore regionale alla ricostruzione mancato lo scorso autunno. E sempre a Gemona, l'attuale assessore della protezione civile Paolo Panontin, ha parlato di un impegno verso la sicurezza che continua e anche di un impegno solidale. Ricordare e andare avanti in pieno stile friulano è così come la ricostruzione ha dimostrato e insegnato. È stato questo lo spirito anche a Gemona nel giorno del 41esimo anniversario del terremoto. Ha sottolineato l'assessore regionale alla protezione civile Paolo Panontin, che a margine ha parlato dell'impegno che la regione sta mettendo in campo per raggiungere al più presto la messa in sicurezza completa di tutte le strutture pubbliche. Importante anche la formazione con l'attività della Serm Academy di Portis di Benzone, per non dimenticare la solidarietà e la voglia di restituire la generosità ricevuta. Lunedì, a tal proposito, Panontin poserà la prima pietra della nuova scuola di Sarnano nelle Marche. La giornata è iniziata con la cerimonia nel piazzale intitolato a Emenuele Chiavola, già segretario generale della ricostruzione al fianco del commissario straordinario Zamberletti, nel quale sono state ricordate tutte le vittime, in particolare i quattro vigi del fuoco a cui è dedicato il monumento inaugurato nel 2011. Spenti i riflettori che si sono accesi l'anno scorso per il quarantennale, quest'anno siamo tornati alla sovrietà, al silenzio e al doloroso ricordo delle vittime del 76, nella consapevolezza di aver onorato con profondità la memoria, ha commentato il sindaco di Gemona Urbani, aggiungendo che molto dobbiamo allo Stato e alle istituzioni, ma anche alla grande solidarietà nazionale e internazionale ricevuta. E oggi è il momento di ritornare. Lo abbiamo fatto in passato con Foligno in Umbria e con Equistello nel Mantovano e ora continuiamo con Fossa e Noccia. Concetti che il sindaco ha ripreso anche nell'intervento che ha chiuso la follata cerimonia alla caserma Goi Pantanali. Dopo la Santa Messa è stata deposta una corona al monumento ai caduti che commemorano i 29 militari che morirono in servizio nella tragica notte di 41 anni fa. Questa sera uno dei momenti più toccanti, i 400 rintocchi del campanone e della Torre del Castello, uno per ciascuno di coloro che sotto le macerie persero la vita. La ricostruzione fu un modello di gestione in autonomia e di collaborazione fra Stato, Regione e Comuni che rimane ancora vivo nel ricordo i buoni esempi del passato. Non devono rimanere ricordi, bensì continuare a ispirare la politica di oggi. Sono le parole della Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, a 41 anni dal 76. La scossa che allora devastò il Friuli spezzando migliaia di vite e abbattendo paesi e imprese è stata una tragedia, poi addirittura aggravata dal terremoto di settembre. Ma è stata anche una grande lezione per il futuro, ha aggiunto Serracchiani, su come soccorrere e su come prevenire. Una lezione ancora in gran parte da imparare. In quei mesi il mondo intero si strinse in uno straordinario abbraccio solidale. Fin dai primi giorni di assoluta emergenza seguirono anni di ricostruzione, istruzioni e cittadini. Sae però collaborare rimboccandosi le maniche e ricostruendo case e paesi mattone su mattone. Anche la chiesa e i partiti furono soggetti attivi in questa enorme opera, ricorda la Presidente, sottolineando dunque come da allora si possa orgogliosamente parlare di modello Friuli. Una straordinaria esperienza di gestione in autonomia e di collaborazione che rimane ancora viva nel ricordo. E proprio dalle macerie del terremoto nacque a Gemona la Cineteca del Friuli, che ha da poco compiuto 40 anni e che per ricordare ha presentato due rari documentari dedicati proprio al sisma del 76. Un patrimonio di circa 30.000 filmati, fra i quali 16.000 pellicole, fra film di finzione, documentari e regionali, con 13.000 titoli, collezioni sui classici dell'animazione, il cinema muto italiano ed europeo, il cinema sperimentale con attenzione particolare riservata a film e documentari prodotti in Friuli-Venezia-Giulia ed un patrimonio librario con oltre 20.000 titoli fra volumi ed opuscoli. Parliamo della Cineteca del Friuli, importante archivio sull'arte dello schermo, fondato nel 1977 a Gemona dopo pochi mesi dal terremoto da Livio Jacobe e Piera Patat. Celebra quindi i suoi primi 40 anni e proprio in occasione del 41esimo anniversario del terremoto, i suoi dirigenti hanno voluto presentare al cinema sociale di Gemona, la capitale del terremoto, due rari documenti, Friuli, memoria, partecipazione e ricostruzione, girato dal veneziano Paolo Cardazzo un mese dopo il sisma, e Questi sei anni, reportage realizzato nel 1982, nel momento più critico della ricostruzione, dal gemonese Lauro Pittini, allora 21enne. Abbiamo avvicinato Livio Jacobe, direttore della Cineteca, intervenuto alla presentazione della serata assieme al sindaco di Gemona Paolo Urbani e all'autore del reportage Lauro Pittini. Il rapporto Cineteca-Terremoto, è un rapporto strettissimo, nato proprio subito dopo il terremoto del 6 maggio del 1976, si sentiva la necessità da parte nostra di produrre dei materiali che andassero alla ricerca di qual era la situazione prima, durante e dopo il terremoto. Ogni anno ci sono delle novità, riusciamo a restaurare dei film per questa occasione che poi vengono, dopo la presenza qui a Gemona, vengono presentati in altre situazioni. La cronaca, tre feriti tra i quali due donne gravi, è il bilancio di un incidente che si è verificato oggi attorno a mezzogiorno tra i comuni di Torviscosa e Bagnariarsa, coinvolte in un violento scontro. Due auto, da vedere la peggio, la conducente della Polo, una 59enne di Faulis di Gonarsa, la parente anziana che viaggiava con lei, un 85enne di Bagnariarsa, sul posto due ambulanze con elicottero del 118 da Udine, che ha trasportato poi a Palmanova le due donne. Non sarebbero però in pericolo di vita in ospedale anche, ma in via precauzionale, il conducente dell'altra auto, un 76enne, che abita a case sparse di Torviscosa e che era appena uscito da casa a bordo della propria auto. I carabinieri del nucleo radiomobile di Tolmezzo e della stazione di Venzone hanno arrestato un ventenne residente in Alto Friuli per estorsione di 200 euro a una giovane del posto. Una somma che era legata all'acquisto di alcune dosi di hashish, da alcune perquisizioni. È stata rinvenuta una modica quantità della sostanza e altro denaro, probabile provento di spaccio. Il denaro e la droga sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane è stato condotto alla casa circondariale di Udine. Ed è stato emesso un ordine di cacerazione dalla procura di Udine nei confronti di un 63enne di etnia rom residente in provincia di Udine. Un uomo che è stato condotto in carcere dove dovrà scontare tre anni, due mesi e 23 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio commessi in provincia di Udine tra il 2003 e il 2009. A Trieste invece ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 41enne di Fossano in provincia di Cuneo, Salvatore Chimici, ritenuto responsabile di numerose truffe ai danni di religiosi e parroci di chiese nelle province di Torino e Pescara tra febbraio e aprile. I militari lo hanno rintracciato alle 3.30 di questa mattina all'interno di una camera di una struttura ricettiva nei pressi della stazione ferroviaria. Secondo gli investigatori la sua presenza a Trieste non era casuale, sarebbe stato infatti pronto a ulteriori truffe nei confronti di sacerdoti e religiosi. Per fatti analoghi era già stato arrestato ma poi scarcerato dopo pochi giorni. A Pordenone ora dove questa mattina sono stati inaugurati sia il rinnovato Parco Querini che la pista ciclabile che lo costeggia. Un'opera attesa da molto tempo dopo una lunga chiusura ma soprattutto anche un parco caratterizzato da un profondo degrado nel passato. È un'opera che è iniziata e va detto con l'amministrazione Pedrotti e che poi è stata continuata e completata e anche corretta dall'attuale amministrazione. Avere un polmone verde in centro città è una responsabilità per tutti. Significa per i pordonesi poter godere di questo splendore, poter leggere un libro, un giornale, fare una passeggiata, fare della ginnastica ma anche la responsabilità di collaborare con l'amministrazione per mantenerlo pulito. Il comune ha un indirizzo ben preciso che verrà presentato nell'arco di qualche settimana del piano parchi, cioè ogni parco dovrà avere una sua identità, dovrà essere messo a posto per quanto riguarda i bisogni materiali ma poi verrà connotato e caratterizzato da attività culturali, musicali, a favore dei bambini in modo tale che i parchi diventino un luogo di aggregazione alternativo magari ai centri commerciali. È arrivata la sentenza del TAR sui lavori al Sacrario di Redi Puglia. Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia ha stabilito l'annullamento della consegna dell'appalto per i lavori di restauro e manutenzione del Sacrario di Redi Puglia alla ditta vincitrice lo scorso 2016, la Bottoli Costruzioni, affidandolo di fatto alla seconda in graduatoria, la Società Italiana Costruzioni. La sentenza del TAR pronunciata contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di Missione per gli Anniversari di Interesse Nazionale, si avvale di alcune irregolarità nella forma e nell'applicazione dello stesso bando di concorso. A detta della ricorrente, infatti, la giudicatario avrebbe dovuto essere escluso sia per essere stato privo di due dei quattro requisiti di progettazione richiesti dall'articolo 13 del disciplinare di gara, ma anche a causa della mancata indicazione nell'offerta formulata del geologo che avrebbe dovuto redigere la relazione geologica elaborato imprescindibile del progetto esecutivo. I lavori del Sacrario di Redi Puglia, che necessita in modo urgente di un restauro conservativo, erano stati bloccati proprio in attesa di questa sentenza. Una volta notificata si potrà procedere con la firma del contratto e l'inizio dei lavori, che fanno sapere dalla direzione dello stesso Sacrario, partirà quasi sicuramente entro la fine dell'estate. Siamo allo sport, un'anticipazione di quello che vedremo e ascolteremo a Game On. L'obiettivo è fare meglio di domenica, così aperto del Neri. La conferenza stampa pre-partita, la vigilia di Udinese-Atalanta domani alle 12.30. Squadra l'Atalanta che sta meritando quello che ha. Detto del Neri sarà una gara difficile come tutte in questo campionato. Il tecnico non si è scoperto sui dubbi di formazione che riguardano il ballottaggio a sinistra da Gabriel Silva e Ali Adnan e la scelta in attacco tra Ashti, Peperizza e Terò. Sembra ormai certo invece che Angela tornerà in panchina e Felipe riprenderà posto accanto a Danilo, centralmente in difesa. Sorpresa invece oggi allo stadio Friuli, dove in sala stampa è apparso Alberto, ex laterale sinistro dell'Udinese dal 99 al 2005, appese le scarpe al chiodo. Nel 2012 ha iniziato la carriera di allenatore in Brasile, prima come vice all'Atletico Paranense e poi al Palmeiras. Ora è impegnato con la Red Bull Brasil, società calcistica di Campignas, nello stato di San Paolo. In questi giorni è venuto a Udinese a trovare vecchi amici per trascorrere una settimana da osservatore al seguito di Del Neri e prendere spunto dalla sua gestione di squadra. È tutto, il telegiornale ritorna come sempre. Domani alle 19, grazie per averci seguito, buona serata.